Adesso che abbiamo una comprensione di base su come muoverci nel sito, esploriamo i vari formati e risoluzioni che puoi scaricare dalle tue immagini. Selezionata la mia immagine, posso controllare i metadati a sinistra per vedere la risoluzione dell'immagine, la grandezza del formato e altre comode informazioni sulla fotocamera, come la lunghezza focale usata per lo scatto, utile in seguito per il matching della prospettiva. A destra troverò i diversi formati di download disponibili, iniziando da TIFF, che mi offre la massima risoluzione disponibile, JPEG per una risoluzione più bassa, di solito a 4K, e poi DNG per la foto non modificata, che mi consente una libertà creativa per il ritocco dei colori. Adesso, quando seleziono l'HDRI, posso avere un'anteprima panoramica a 360 gradi, per avere un'idea di come sarà il mio HDRI. Va bene, passiamo ai formati HDRI disponibili. Abbiamo i formati classici come HDR, così come le XR, entrambi in formati a 32 bit. Sotto a questi, c'è un TIFF mappato a toni a 360 gradi, con tutto il post-processing applicato. Potresti notare anche un altro nuovo formato esclusivo per CGI-B, chiamato Ray HDR. Ray HDR offre un'illuminazione direzionale calibrata che corrisponde alla luce ambientale, offrendo un'illuminazione reale per il tuo modello 3D, senza bisogno di ulteriori impostazioni manuali. Ne parleremo nei prossimi capitoli. Come iscritto, puoi scaricare fino a 30K. Ora, se trovi un HDRI interessante ma non ha ancora il Ray HDR scaricabile, puoi richiedere una conversione Ray HDR. Grazie a tutti.